Grazie, amici miei! Come la mia pecorella di peluche! Non preoccuparti, Daisy! Troveremo un nuovo amico per la tua pecorella! È vero! Lui sa parlare! Possiamo provare a chiederglielo! Senti, pistacchio, dov'è la tua casa? Dov'è la tua casa? Ma no, ha ripetuto la mia domanda! Forza, oltrepassiamo la porta dell'armadillo! Coraggio, entriamo, amici! Incredibile, hanno risolto il puzzle! È uno squadro! è minuto! E... è minuto! ... Grazie.